Il narcisista ha un'abilità straordinaria, sapete quale? Quella di attrarre su di sé tutta l'energia psichica della vittima. La persona che si trova in questa condizione si abbandona al sentimento, abbassa le sue difese e sperimenta la sensazione di essere pervasa da un brivido inspiegabile e inquietante. Quando entra in scena l'arte della seduzione narcisistica, la prima emozione che prova la vittima è quella del turbamento. La vittima è confusa perché la sua banale realtà esterna viene all'improvviso sostituita da una seducente realtà fantasmatica che le fa perdere i suoi abituali punti di riferimento e diventa una persona smagnosa, anelante, paragonabile a chi si è perso in una notte buia senza luna e senza stelle, che non sa dove andare e neanche come orientarsi. Allo stesso tempo non riesce a mettere a fuoco i suoi reali desideri, dunque finisce per essere prigioniera di una situazione senza sapere dove dirigersi. I poeti descrivono questa condizione esistenziale come una nave senza nocchiero in un mare in tempesta. La vittima però si convince che le sue sensazioni siano legate alla presenza del seduttore e cioè è convinta che sia lui a suscitare quel turbamento così destabilizzante, ma in realtà non sa che il desiderio si alimenta di qualcosa che vive dentro di lei, nel suo inconscio. Infatti senza una conoscenza di ciò che accade in noi e delle dinamiche che accendono i nostri desideri risulta molto difficile comprendere le ragioni sottese alle scelte sentimentali che compiamo. Ci sono dei veri e propri criteri di scelta che ognuno di noi utilizza inconsciamente ed usa per scegliere gli altri. Noi dovremmo essere consapevoli di questi criteri, altrimenti saremo sempre in balia delle situazioni e vittime di rapporti distruttivi. Perciò è fondamentale mettere a fuoco i propri desideri inconsci, in quanto senza questo genere di conoscenza la nostra esistenza trascorrerebbe nel vano tentativo di colmare il vuoto che alberga nella nostra anima, ma di cui non comprendiamo il significato. E il narcisista cosa fa? Cattura e monopolizza lo sguardo della vittima, tanto che la sua presenza diventa indispensabile. La sua sola presenza diventa una ragione di vita per la vittima. Non a caso si dice che l'oggetto del desiderio è sempre insostituibile, perché è l'unico in grado di evocare le nostre più profonde dimensioni interiori. Il narcisista è molto bravo a fare questo, in quanto sa attivare la realtà fantasmatica dell'altro, sollecitando il suo desiderio inconscio e dando l'impressione di colmare il suo vuoto. In pratica diventa il sembiante di un nutrimento interiore in grado di colmare la mancanza che vive la vittima. In altre parole, il narcisista rappresenta bene quel nutrimento affettivo di cui la vittima sente il bisogno, in quanto non ha la consapevolezza dei propri desideri inconsci e quindi del loro significato simbolico. Non a caso lo stato di innamoramento della vittima è caratterizzato dal mistero. La vittima è stregata dall'immagine che l'altro evoca in lei stessa. Ma questa immagine è un'immagine tormentata, in quanto racconta di una sete di emozioni che non potrà mai placarsi, proprio perché è in gran parte inconscia. Di fronte al suo amato, la vittima prova una rassicurante sensazione di pienezza, ma nello stesso tempo brama il possesso di chi ha il potere di donarle tanto benessere. La potenza di questa fascinazione è alimentata dalla misteriosità del desiderio inconscio, che è un desiderio oscuro, in quanto è difficile da interpretare. Ora, avere la consapevolezza dei propri desideri significa approfondire la conoscenza di noi stessi e in un certo senso è proprio l'innamoramento che offre l'opportunità di questa ricerca interiore, in quanto è il primo passo per poter mettere a fuoco la verità del nostro desiderio inconscio. Si potrebbe dire che una risposta al problema del senso della vita è racchiusa proprio nello scrigno dei nostri desideri. Ma bisogna riconoscere quando un desiderio è autentico o è un desiderio indotto. Sapete quando noi riconosciamo che è un desiderio o una passione vera, quando insieme alla passione c'è anche il rispetto per noi stessi. Questo è l'unico modo per riconoscere una passione vera, distinguendola da una fantasia distruttiva che ci porta lontano da noi stessi. Il desiderio che viene attivato nella vittima può regalarle la forza di compiere azioni temerarie, perché quel desiderio diventa un canale espressivo del suo inconscio. Ma quando il desiderio non è consapevole, allora può diventare un acerrimo nemico della persona, perché diventa come un fantasma che la perseguita di giorno e di notte. Vedete, le fantasie prendono vita nel profondo dell'inconscio, dando vita ai nostri sogni, ma anche ai nostri deliri. Allora per ritrovare se stessa alla vittima dovrà prima perdersi tra le pieghe della sua anima, per poi sviluppare quello che si chiama un sano narcisismo, attivando il gusto della ricerca interiore fino ad arrivare a conquistare se stessa. Questa immensa opera artistica necessita della presenza di un altro, che in questo caso è un narcisista, ma è pur sempre il polo di una relazione che può dare alla vittima l'opportunità di capire cosa potrebbe essere e cosa potrebbe diventare. Ma è un'occasione che va accolta con spirito critico e con una mentalità squisitamente psicologica, senza la quale l'opportunità diventa una sorta di prigionia del cuore. Noi non possiamo essere pienamente noi stessi e quindi vitali se non siamo in contatto con la parte profonda di noi stessi. Nel momento in cui ci relazioniamo con l'inconscio e quindi con il mistero si tratta di sperimentare un incontro con l'ignoto, ma questo ignoto è vivo ed è popolato di fantasmi che desiderano relazionarsi. E allora il linguaggio più adatto a questo tipo di relazione è quello poetico, perché è un linguaggio empatico ed è ricco di metafore. Dunque non è il linguaggio razionale dell'io. Per accogliere una verità nuova l'io deve assumere l'atteggiamento di chi sa di non sapere e deve lateralizzarsi per fare spazio al nuovo sapere, sospendendo le sue certezze, per dimenticare ciò che crede di sapere, per poi desiderare nuovo desiderio, e cioè il desiderio che l'inconscio emerga. La verità di questo desiderio libera l'uomo dalle sue catene. E solo una mente libera partorisce il suo desiderio, che è racchiuso nella verità ultima del suo sapere inconscio. E così il significato della nostra vita cambia. Questa, in definitiva, è l'opportunità che il coinvolgimento affettivo offre, quella cioè di entrare dentro noi stessi con occhi nuovi. Bene, come sempre vi invito ad iscrivermi al mio canale youtube dove sarete informati sui nuovi video di psicologia cliccando sul simbolo del campanellino. Potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho chiamato una pagina chiamata la mia psicologia. Il mio sito è www.robertoruga.it dove troverete una serie di playlist dedicate al narcisismo, alla dipendenza affettiva, alla manipolazione e via dicendo. Infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata sia su skype che su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al 338 16 92 473 per richiedere una consulenza psicologica specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti. In bocca al lupo!